Papà, oggi sarai contentissimo di quello che andremo a fare No, no, lo dico sul serio No, a spendere i soldi? No, oggi sbloccherai una nuova modalità e due nuovi brawler Gratis Ah, ecco, bene Complimenti papà Grazie per il gratis Ovviamente ragazzi mi invito a lasciare un bel mi piace a questo video Iscrivetevi al canale se non è questa fatta E passate sul mio secondo canale dove porto Fortnite Ragazzi, molti mi continuano a chiedere Gigi, ma Fortnite, Fortnite Ragazzi, sul secondo canale trovate il link in descrizione Venite a seguire anche su tutti gli altri miei social Anche di quelli trovate sempre in descrizione E andando nel camion di trofei hai un sacco di roba da sbloccare E vai Lascio fare a te proprio, guarda Allora, rendi sblocca Anita, posso prendere? Vai Ed eccola qui Mamma mia che bello Sei contento? Senza aver speso una lira Eh, hai visto? Vai Vado Clicca poi Poi, cassa brawl Vai Che è gratis Che è gratis anche Ma non è che mi stai a perculare, no? No, 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 no Eh, lo vedi, non ti sta a far spendere niente No, 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 vabbè Aprimi Monete È il primo Barril Barril, sì C'è scritto Barril Eh, però si legge Barril Prendi nuovo evento sopravvivenza Lo prende? Sì, c'è proprio una nuova modalità, vedi? Adesso infatti ti farò provare questa nuova modalità Per forza, eh Ok Vai, aspetta Vai 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 Un'altra box Vediamo se trovi Nita Con un brawler Ma Carl Ok E poco Pocio Ok Dicevi Vai Prendi sblock out Oh, guarda Colt Out Ho letto io No, là c'è qualcosa che non va Nei tuoi occhi c'è qualcosa che non va Sì Abbiamo appena finito di registrare un video di Fortnite per il secondo canale appunto Che non so quando vedrete o se è già uscito Non ci vedeva E continua a non vederci, ragazzi Sì Allora Detto questo io direi che andiamo a provare i nuovi brawler Sì Quindi selezioniamo Nita nella nuova modalità sopravvivenza Sì Funziona un po' come Fortnite Prende siete dieci persone tutti contro tutti L'ultimo che rimane in vita vince Vabbè, decimo tutte le partite insomma Vabbè Ognun per sé Ognun per sé Ok Vado, mazzo, faccio Tun 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 Eh, se non ti muovi Rimane difficile farlo Devono prendere le gemme? Ah, le gemme se le prendi diventi più forti Ma io Io sono questo? Sì, tu sei questo sacchiotto Dai Dai che l'hai quasi ucciso Sì, hai ucciso il primo Mamma mia, quindi sono primo? No, no, no Siete rimasti in otto adesso Me posso nascondere? No, eh sì Però vedi questa puzza verde È tipo la tempesta su Fortnite Ah, ok Non ti devi far colpire Ok Meno male me l'hai detto Senti, ma se uno si è nascosto qua Io vado addosso Tu puoi anche nasconderti Ma dove stanno l'altri? Eh, l'altri passano sulla mappa Dove vogliono Comunque quando sei dentro quei cespugli La gente non ti vede Ok, mi ci metto dentro Ma qui Sei già rimasto in quattro Vai, vai, vai Prova ad ucciderlo Prova No Vai Ah, bravo Hai preso l'orso Ok, vai Dai, no Prendi le cose Ah, prendi le cose Poi ci sono quei succhi Che ha appena preso quel tuo avversario Che ti rendono molto più forte Dai papà Hai vinto Cioè? Hai vinto Mamma mia È proprio un gioco per ciecati questo Perché ci ho capito niente Ho vinto per davvero Eh, ok, non lo vedi Hai vinto Incredibile E quindi Mui mi tocca gioca a Brawl Eh, ormai sì Sei troppo forte Troppo forte Troppo, troppo forte Guarda quanto te l'ho portata Eh, ma Su tu ho portata A quanto l'ho portata? A dieci coppe Dieci coppe? Dieci coppe Eh Ma io Dove le metterò tutte ste coppe? Stai a 90 coppe Quindi se fai un'altra vittoria Sì Arrivi a 100 coppe Con un'altra sola vittoria? Eh sì Però devi vincere E con 100 coppe che fanno? Niente Ah Che c'è vado a fa' Vabbè Allora vai 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 ok Che vuoi? Prendi la cosa Prendi la cosa Eh Stai attento eh Stai attento eh Sto attento perché vedo Prendi la cassa Eh, come faccio a pialla? Eh, devi sparargli Ah, devo sparargli Vai Un altro? Ok, vai Vai, tanto lì si stanno uccidendo intanto Ok Sto nascosto? Eh Mi sono ricaricato? Sì, te sei ricaricato Dove state? Buffoni, venite qua Rimanenti quattro Siamo già in quattro Sì È perché a ste coppe Tutti pushano Vado eh Quindi le partite finiscono presto Vado avanti, vai Vado, vado, vado Io so coraggioso Non me ne faccio Che è quella cosa lì? Ah, questo succo è quello Che ti rende fortissimo Cioè io do sparare Vai, vai, vai Dossa la gente Spara Dove stai? Eccolo Bravo L'hai ucciso Prendi, prendi, prendi le gemme Prendi, prendi le gemme Prendi, prendi le gemme Vai E prendi di nuovo un altro succo Prendi un altro succo E vai di nuovo a destra Cerca Vado, vado a cercare Eccolo laggiù Eccolo laggiù Vi è qua, bello Dove stai? Ah, vedi Lui c'ha Vedi pure tu hai preso l'orso Vai, attaccalo, attaccalo 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 Vedi, l'orso tuo lo sta uccidendo quasi Attento alla tempesta No, no, attento alla tempesta Papà, prendi danno Attento alla tempesta Che prendi Mi sono bloccato Te sei bloccato e ti ha sparato lui Secondo Sono arrivato secondo Quante coppe? Otto Otto Quindi ne mancano due Ne mancano due Direi di andare invece a provare Colt Proviamo Colt Hai fatto due partite con Nita Però Nita è brava Sì, Nita non è male È molto forte come brawler Ok, proviamo Colt Vediamo se con Colt Seleziona Colt e gioca con Colt Vado Vediamo se con Colt te la cavi come con Nita Ricerca i giocatori Dieci giocatori Vai Sopravvivenza da solo Mazza, tutti Colt, regà, oh Tutti Colt? Che vuol dire? E c'erano tutti i tuoi stessi brawler E' certo di sparare No, ho perso Sei arrivato ultimo proprio Sei passato da esser arrivato primo Ad arrivare ultimo proprio Eh, ma allora Colt non è che è fortissimo Eh, beh È più forte di Nita? Ma in realtà No, vabbè, gli sono andato in bocca Pensavo Ogni brawler ha una sua peculiarità Quindi è difficile metterle a confronto Ma se va a togliere le casse? Eh, meglio Ma noi di dove stiamo? Tutti insieme Tutti in maniera Ma io mi posso nascondere un attimo qui Ma prendi le casse Dove stanno? Prendi le casse E là sopra! Niente, oggi non ce vede proprio Dai, devi riladirle, sì Oh, e quante orto tu vuoi? È perché stai a colpire un po' una Un po' l'altra E quindi non le distruggi Occhio che quella lì ti colpisce Occhio e... Eh, niente Ti ha rubato la... La gemma e ti sta per uccidere Niente Sì, sì No, ma sarà quest'altra Niente, è colto e non mi piace Abbiamo appurato che è colto Mi sa che non piace un tappato Però dai, una colpetta Sto basettone qui Tra l'altro con questa coppa Sei arrivato a 99 No, 99 99 Trofei Quindi direi rimettiamo Nita Bravo E vediamo Se effettivamente è Nita Vediamo se effettivamente è Nita Dai, è Nita Però ti piace un po' di più questa modalità Tutti i conti È fantastico, guarda Oh, me nascondo Vado, 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 vado Guarda quella Quella è colta, tra l'altro, eh Vai Ok Devi dargli altri due colpi da adesso Questo e un altro Vai, corri, 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 corri Corri, corri, corri dove? Eh, a prendere le gemme Mon che faccio? Eh, Moni, sta attento Perché la gente ti potrebbe sparare Attento che quel colto c'è al succo Attento che c'è al succo Quel colto Beh, lo so, ma dove metto Come faccio? Devo sperare che quello se n'è nato Eh, sì Comunque siete rimasti già in cinque Quindi ho vinto le coppe già Sì Vado Quello se n'è ammazzato da solo Ma non credo Scusa, hai preso il succo? Te nascondi? Ma no, probabilmente Oh, c'è un succo a destra C'è un succo lì a destra Ma può s'annare più veloce? Eh, no Prendiamo sto succo È montavato Eh, mo cerca gente Eh, cerco gente Qui Questi sono nascosti tutti Io sto a sparare l'impazzamento La, 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 stai in alto Stai in alto Eh, ma mi sa che se ne va Molto il succo Guarda sto stupido qui Sto stupido Solo che c'ha 7 power up Ed è colt Si sta proprio per prendere la Si è preso proprio La vendetta Sono arrivato secondo No, terzo Ah, sì, c'è ragione Cioè con Ida tu hai fatto Primo, secondo e poi terzo Eh, co-cold 0 Co-cold 10 Ma 100 coppe l'ho fatte Una vera ma la manderanno 100 coppe l'hai fatte Uh, guarda Hai preso il raddoppio a gettoni Adesso Mamma mia Che bello sto gioco Dopo tutte le partite Vincerai dei gettoni extra Vai, fatti l'ultima, va Mi faccio l'ultima E tra pochi trofei Sbloccherai la modalità del calcio Guarda, non vedo l'ora Foot brawl Vai, c'è due cassette lì sotto Ok, stai attento Perché c'è un sacco di gente intorno Quella sta pure a venire lì da te Ma perché ci mette così tanto? Occhio, occhio Sta a venire quello lì sopra Mascherato No, no, io voglio spara a lui Eh, però quando tu fai di automira Il gioco va sulle cassette Quindi dovresti mirare per prenderlo Eh, ma ti ammazza papà Ti ammazza Ho capito Bello mio E che hai capito? Ah, quindi con l'automira Tra l'altro si chiamava Cristiano CR7 Forse è della Juve Forse è della Juve Comunque niente Stavolta si è arrivato Ottavo pure con Nita Vabbè, vabbè Non vuol dire Dai, va bene Ma allenerò pure su questo Tutto sommato È andata bene Comunque Tra quante coppe sblocchi La modalità Tra Ok 43 coppe sblocchi Ma che ce vuole? Tre partite Tre partite vinte con Nita E le hai fatte Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Se non è questo è fatto Lasciate un amico Mi piace Passate tutti i miei social Traete tutti i link in descrizione In particolar modo Sul secondo canale Dove sto portando Fortnite Dove esce Uscirà O è già uscito Non lo so Il video con papà Dove non ci vede Su Fortnite E vabbè Però quelli purtroppo Sono dettagli Niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ripeto Ciao Ciao Grazie a tutti